Un San Marino reduce dal ritorno alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi ma che affrontava una bell'aria spauracchio se ce n'è uno in queste ultime giornate di campionato ci prova al nono minuto buonocunto, conclusione deviata in corner poi al diciassettesimo ancora il San Marino in azione di manovra il cross dalla parte di sinistra e la palla che si impenna poi resta in possesso del San Marino la respinta corta da parte di Diop ci prova Simone Loiodice e la conclusione viene intercettata da parte del portiere della Bellaria Calderoni ancora il San Marino prova a far valere la propria superiorità tecnica manifestata dalla classifica ci prova con questa conclusione Paolini, palla sul fondo e poi invece passa il Bellaria al trentaduesimo minuto, azione sulla destra di Petrarca il match winner della gara con la Ravenna, cross per Suriano che non se lo fa ripetere due volte e scaraventa il pallone alle spalle del portiere Dini Bellaria ancora una volta sorprendente, Bellaria in vantaggio al San Marino Stadium reazione del San Marino flebile nel primo tempo, solo questa conclusione di Olcese nella ripresa invece Medri si gioca tutte le carte offensive a disposizione l'ingresso di Stefanelli e del grande ex Gagliardi un San Marino che ci prova così con manovre di accerchiamento siamo al quarto minuto al quarto minuto dunque una conclusione alta da parte di Olcese poi al ventiduesimo minuto il pareggio che vedremo tra poco di Gagliardi proprio lui, proprio il grande ex Gagliardi che riceve un pallone in area di rigore e trafigge imparabilmente il portiere del San Marino non ammette repliche ma il Bellaria rimane in campo con Suriano ci prova con questa conclusione alta al ventiquattresimo minuto lo stesso Suriano ruba palla, innesca un contropiede c'è Zogu, è entrato anche lui nel corso della ripresa spreca malamente il punto dell'1 a 2 andiamo invece al trentacinquesimo minuto chiude alla grande del San Marino c'è Baldazzi in azione sulla destra mette al centro una cross la parata da parte del portiere Calderoni ancora il San Marino l'altra discesa sempre di Gagliardi ci prova con una conclusione che va a sfiorare il palo al quarantesimo minuto altro cross dalla destra di Magnanelli sempre per Gagliardi alto sopra la traversa eravamo al quarantaduesimo l'ultima chance al quarantasettesimo minuto per Olcese preferisce rifugiarsi in corner Calderoni insomma una derby quello tra San Marino e Bellaria terminato con un pareggio che sicuramente fa più piacere al Bellaria